Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Paolo Crivellin, clamoroso no finale? Uomini e Donne Anticipazioni, la scelta di Paolo Crivellin, ecco cosa succederà. L'attesa degli spettatori di Uomini e Donne è finalmente terminata, sta per essere trasmessa la fatidica puntata finale della scelta di Paolo Crivellin, il tronista torinese, che ormai da settimane tiene il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi con il fiato sospeso. Dopo vati tentennamenti, tira e molla e dubbi, ecco che Paolo ha maturato la sua decisione finale e si sente pronto per rivelare il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. La scelta di Paolo Crivellin, il 5 febbraio in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali su Uomini e Donne rivelano che la fatidica puntata della scelta finale di Paolo Crivellin ha finalmente una data di messa in onda in televisione. Dopo numerosi rindili, possiamo svelarvi che l'appuntamento per tutti i fan del dating show di Maria De Filippi è fissato per il giorno lunedì 5 febbraio come sempre alle 14.45 circa sulla rete Ammiraglia del Biscione. La novità della scelta di Paolo è che per la prima volta l'intera puntata sarà dedicata interamente al tronista, e che prima di assistere al fatidico momento della dichiarazione d'amore finale ci sarà la messa in onda delle ultime esterne, che il tronista torinese ha fatto con Angela e Marianna. Colpo di scena a Uomini e Donne, Paolo è stato rifiutato come Sabrina Ghio? A Paolo, infatti, è stata data la possibilità di togliersi tutti i dubbi e di farlo vivendo per due giorni all'interno di una villa messa a disposizione dalla redazione di Uomini e Donne, durante i quali ha conosciuto maggiormente le due ragazze. La novità sta nel fatto che quando Paolo passava del tempo con Angela o Marianna, l'altra corteggiatrice poteva spiare tutto quello che stava accadendo in quel momento e quindi farsi un'idea anche sulla scelta finale e cosa dire. Ebbene all'interno di Villa pare che sia avvenuta anche la fatidica scelta finale di Paolo Crivellin, il tronista, quindi, non sceglierà in studio sotto la consueta pioggia di petali rossi bensì in esterna. Il colpo di scena, però, potrebbe riguardare proprio la risposta delle ragazze, si vocifera, infatti, che sia Angela, che Marianna non siano per niente soddisfatte del trattamento riservato solo dal tronista nel corso di queste ultime settimane di programma, e che addirittura potrebbero avergli rifilato un clamoroso no finale che lascerebbe tutti senza parole. Grazie